Buongiorno a tutti, ci troviamo nell'area del mercato di Sezze. Questa che potete vedere è una scala, un'opera, diciamo così, che rappresenta lo spreco dei soldi pubblici, dagli interventi micro a quelli macro. Questa scala ci è costata alle nostre tasche 40.000 euro, d'accordo? 40.000 euro delle nostre tasche. Allora immaginate voi una signora che fa spesa al mercato con il proprio carrello, lo riempie di frutta, lo riempie di verdura, arriva davanti a questa scala, deve poter arrivare su in via Piaggemarine e cosa fa? Si siede al primo cadino, si riposa due minuti e poi fa tutto il giro a piedi. Mi dite voi a cosa serve questa scala? A niente praticamente, accessibilità zero, costo 40.000 euro delle nostre tasche. Se poi fate un giro, facciamo un giro, potete scorgere le cancellate di un luogo magico che è stato distrutto, violentato, il cosiddetto ex-anfiteatro, dove oggi sorge un'opera, una colata in cemento armato che è il cruccio del popolo setino e che è l'ecomostro. Ma di quello ne parliamo alla prossima puntata. Ciao a tutti, ciao! Ciao! Ciao!